Stefano Pettinari è un giocatore del Lecce. Nel pomeriggio l'attaccante romano, accompagnato dall'agente Marco Sommella e alla presenza del direttore sportivo dei Salentini, Mauro Meluso, ha sottoscritto il contratto che lo lega alla società giallorossa. A Lecce Pettinari ritroverà il tecnico Fabio Liverani. I due hanno lavorato insieme nella seconda parte della scorsa stagione a Terni, centrando una difficilissima salvezza. Pettinari lascia Pescara al culmine della sua migliore stagione in carriera, numeri alla mano, 38 presenze in campionato con 13 gol all'attivo, più altre due presenze ed un gol in Coppa Italia. Ma il pomeriggio odierno ha riservato un'altra novità in Casa Biancazzurra. Il futuro del portiere Vincenzo Fiorillo, infatti, potrebbe essere lontano da Pescara. Nel pomeriggio i principali siti di calciomercato hanno lanciato la notizia dell'accordo in itinere tra il Delfino e gli Azzeri del Carabag. Per Fiorillo si spalancano le porte per una straordinaria esperienza professionale all'estero, con una squadra che lo scorso anno ha partecipato al tabellone principale di Champions League, dando del filo da torcere a Roma, Chelsea e Atletico Madrid nel girone, ed è stata una presenza piuttosto assidua nel tabellone principale di Europa League negli anni precedenti. Il Carabag ha appena rivinto la Premier a zera e giocherà il 10 di luglio la gara di andata del primo turno delle qualificazioni di Champions contro l'Olimpia rubiana ed ha dunque la necessità di chiudere subito l'operazione. Secondo queste indiscrezioni, al Pescara andranno 600 mila euro, mentre per Fiorillo, il cui contratto con Pescara scade tra un anno, è pronto un accordo triennale con scadenza giugno 2021. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, l'accordo sarà ratificato a breve. Fiorillo dunque potrebbe andare via proprio alla vigilia della stagione nella quale, complice alla probabile partenza di Brugman, sarebbe stato il capitano designato del Pescara, ma certi treni, si sa, passano poche volte e questa è una grande opportunità per il 28enne portiere Scuola Sampdoria. Sul fronte delle entrate invece si avvicina il ritorno dell'ex capitano Ledyan Memushai, che a breve potrebbe chiudere la sua esperienza col Benevento. Resta da trovare la formula migliore, visto che il contratto del giocatore albanese con i sanniti scade fra due anni e sarà importante che il giocatore rinunci a una parte dell'alto ingaggio percepito. Intanto la partenza di Pettinari renderà fondamentale trovare un nuovo bomber. Federico Melchiorri non è stato riscattato entro ieri dal Carpi, ma la società emiliana vuole fortemente l'attaccante marchigiano e continua ad avere una pista privilegiata col Cagliari. L'assalto definitivo arriverà con le liquidità che saranno disponibili dopo la cessione di Mbakogo al Leeds. L'operazione Melchiorri dunque per il Pescara resta complessa.